Signori miei, signori miei, signori miei, in questo video dobbiamo fare tutto quello che ci dirà Minecraft e io, onestamente lo sapete come sono fatto io, quando mi dicono qualcosa e che devo fare per forza qualcosa, diciamo che non sono la persona diciamo più, come dire, più felice del mondo eh, ecco, ad esempio in questo momento mi dice di prendere la legna e penso che sia abbastanza doveroso fare quello che dice Minecraft, potrebbe diventare una serie, non lo so, ok, non lo so, ma noi lo facciamo, ok? Non ci facciamo problemi, al momento penso che dovremmo semplicemente prendere del legno, fai la crafting table, ok, va bene, oh no, oh Minecraft, io lo so come funzioni, ok? Non c'è bisogno che ogni volta mi spieghi che cosa devo fare, ok? Minecraft, madonna santa, ti fai la crafting table, ti fai quello, fai questo, ho capito, sì, ho capito, vabbè, dai, allora, facciamo la crafting table, poi magari che cosa mi dici, fai un piccone o fai l'ascia, vediamo che cosa mi dice, fai l'ascia, fai l'ascia, fai l'ascia, certo, certo, fai l'ascia, cioè è come se tipo, non lo so, eh, oh Cristo! Ciao! Ciao, eh, tu, saresti? Eh, oh, ragazzino, che c'è da fare? Mi serve una mano. Eh, sì, un attimo solo, che così almeno finisco questa quest, ok, ok, vabbè, oh, 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 che stai facendo, perché mi stai rompendo la crafting table, scusami, scusami? Perché è mia? No, 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 non è tu, aspetto un attimo, perché, ma chi, ma che ci fai a terra? Oddio, guarda cosa hai fatto, e mi hai urtato il pollo, ma ti rendi conto? È una cosa da fare, bambino del cazzo. Quale pollo? Qui non c'è nessun pollo. Vabbè, comunque, senti qua, che devo fare, che devo fare questo bambino? Mi serve una mano, sto giocando i miei genitori. No, non me ne importa niente, onestamente, devo semplicemente fare quello che dice Minecraft. Ma come? Aiuto il bambino. Aiuto il bambino, certo, o meno, ovvio, mi importa. Quindi? Certo, aiutiamo sto bambino, va bene, che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Ho perso i miei genitori. E quando mai, voglio dire, non lo so, ma vogliamo chiamare il telefono azzurro? Penso che sia logico, no? Non ho il telefono. Ok, certo, logico, sì. Ok, dobbiamo cercare i tuoi genitori, non lo so dove stanno i tuoi genitori, saranno in qualche casetta, penso. No, 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 aspetta. Guarda qui, li vedo, li vedo, sono lì. Ma che cosa? Ma che se sono dei polli questi qua, mi prendi in giro, bambino? Mamma, papà, perché stai bloccando? Ma perché? Ma non sono i tuoi genitori, sono dei c***o i polli questi! Sì, sono dei genitori, come state? Oh, violo. Sarò, è entrato a casa. Oh, io, brazo. Oh, brazo. Oh, brazo, brazo. Oh, brazo, brazo, brazo. Non è normale questa cosa, non è normale questa. Minecraft, che c***o ti stai dicendo Minecraft? Come buon lavoro Minecraft? Ho scritto buon lavoro. Ma non sono i suoi genitori questi. Non sei che mi aiuta. Va bene, ok, andate a me la faccia di sentire. Sì, sì, tantissimo. Ma che mano? Oh mio Dio, ma che cosa stanno guardando i miei occhi? Dio santo. Vabbè, sentite, lasciamo perdere. Magari è una questione, magari, che al momento è successo questo, ok? Magari le prossime cose saranno più normali, giusto? Lo spero vivamente. Comunque, adesso andiamo e prendiamoci le... Perché no, non mi fa prendere il legno? No, scusate. Non mi fa prendere il legno! Non mi fa prendere il legno! Guardate! Non sta laggando neanche il server. Sta laggando il server? O poi quale server? Sono i single player pure. Ok, va bene. E che dovrei fare, Minecraft? Non mi funziona l'ascia. Che devo fare? La spacco con le mani? Ma come sì? Ma come sì? Ma mi prende per il culo! Sì, cioè, non c'è alternative. Quindi che cosa ho fatto, Minecraft? Per quale motivo mi hai dato l'ascia, allora? Mi hai detto di fare l'ascia? Vai il piccone. Come fai il piccone? Ma come fai il piccone? Ma adesso me lo dici di fare il piccone? Ma prima mi hai detto di fare l'ascia! Ma allora mi hai fatto perdere tempo inutile, Minecraft! Io santo! Mamma mia! Guardate! Non mi fate... Vabbè! Ok, ok, ragazzi! Facciamo finta come se niente fosse, ok? Facciamo tutto quello che dice Minecraft. Sono forse urtato, ma non capisco per quale motivo. Forse lo scoprirò tra momenti. Ok, non so per quale motivo c'è... Che casette so? Queste. Vabbè, andiamo avanti. Prendiamo... Prendiamo la pietra. Fai un piccone di pietra. Ok, va bene. Facciamo il piccone di pietra. Dunque, adesso prendiamo la pietra. In questo modo. Facciamo un piccone di pietra. Perché è quello che vuole Minecraft. Quindi facciamo così. Perfetto. Ottimo. E via. Perfetto. Sapete cosa? Penso che al momento ci siamo. Al momento ci siamo. Ok. Comunque vi volevo dire una cosa. Ok, va bene. Minecraft. Devo cercare, ragazzi, come ha detto Minecraft, la strega. Ma quale strega? Che ci restano quattro di casette. In quale casetta devo entrare io? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Forse devo entrare in questa casetta. No, non c'è niente. Quindi andiamo avanti. Oddio. Comunque, mentre cerco la strega, vi ricordo che io, sapete quando, venerdì sera, ragazzi, inizierò a fare le live nel canale Diola. Che trovate nel link in descrizione. Oh, Cristo, Violet! Oddio, Freezer! Non mi pare! Non facciamo più quel genere di video, Free! No, ok, ho capito. Ma sei tu la strega? Perché Minecraft mi ha detto di trovare una strega. Ma come ti permetti? Vabbè, ma te la p***o, Violet. Dio santo! Sì, vabbè, Sprady! Ma che cosa? Ma dovevo cercare una strega? E che cosa è successo? Che cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Sto accadendo, Dio santo! Che c***o? Ok, vabbè, sentite. Cerchiamo sta strega. Dicevo, prima che mi interrompesse Minecraft o qualsiasi cosa stia accadendo all'interno del mio mondo. Praticamente io, venerdì sera, precisamente alle 19.30, dalle 19.30 alle 23.30, andro in live e farò tutti i giorni tranne sabato e domenica. Ora, probabilmente, non lo so, questo weekend forse lo farò, ok? Perché magari sono le prime live e quindi chiudo un occhio. Ma dalle prossime, insomma, sarà dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 23.30, ok? Mi raccomando, porterò principalmente e solamente horror, ok? Più magari qualche giochetto che voglio giocare insieme a voi. Detto questo, continuiamo. Magari è qua la strega. Oh, Cristo sì! Oh, Cristo sì! Guarda che bella sono, madonna santa, me lo metterò in culo. Allora, signorina strega, finalmente sono giunto da lei. Che cosa devo fare? No, si concomodo, cioè, manco a chiedermi, non lo so, permesso, si sposti. Perché? Oh, oh, no, 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 ma che cazzo... Oh, ma come cazzo... Fermetti! Ma, ma scusa? Ma scusa, ma... E ora? Ahahahah! Minecraft sta ridendo di me? Minecraft sta... Minecraft sta ridendo di me? Ok. Va bene, Minecraft. Va bene. Sono veramente, veramente tanto felice di questa cosa. Mamma mia, magari ti disinstallassero tutti i computer. No! Sto scherzando, ovviamente! Giocata a Minecraft. Non questo tipo di Minecraft, ok? Perché altrimenti qua, veramente, succede l'apocalissi. Ok. Che devo fare adesso, Minecraft? Cerca la zucca... Vera. Ok. La zucca vera. Che significa, cerca la zucca vera? Sono tutte zucche vere qua. Ma cos'è di slessico, Minecraft? Minecraft che non sa scrivere? Per tutto il rispetto, ragazzi. Però, mio Dio! Magari non lo so. Riuscissimo a... A capire pure quello che... Cosa... Cosa vuole Minecraft. Vabbè, andiamo avanti. Dovevo cercare la zucca vera. Non so minimamente che cosa voglia significare questa cosa, ma cerchiamola. Chissà quale sarà questa zucca vera. Oh. Ma questa zucca è compenetrata... E questa è la zucca? Beh... Oh, 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 oh! Dove sta andando? Oh! Oh! Dove cazzo sta andando, zucca di me? Segui la zucca, c'è scritto. Va bene, la seguo, la seguo. Dov'è andata? Dov'è andata? Dov'è andata Prendi il carbone Ma che significa Ma tu mi metti una zucca che cammina All'indietro E mi dici poi di prendere il carbone Vabbè va bene ok Minecraft prendiamo Prendiamo il carbone che ti devo dire Va bene non è un problema eh Prendiamo il carbone Sì 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 Come se tutto fosse normale Ma non lo so ma non potevo farmi parroco E invece no sono qua ragazzi a giocare con voi Per intrattenervi e non voglio Sapere onestamente che tipo di intrattenimento Sto facendo in questo momento perché Guardate mi Mi catapulterei fuori dal balcone Ma dato che non so volare e non ho le ali E continuiamo a Ma devo fare qualcosa qua Crea una Crea una fornace Ok però mi serve la crafting table E io la crafting table l'ho lasciata via E quindi mi servirebbe direttamente Da qua del legno quindi prendiamo In legno va bene E prendiamo in legno Facciamoci la crafting table E creiamoci la fornace Che cosa mi serve poi la fornace Cioè va bene che mi serve per uccidere E mangiare e tutto il resto Però eh non lo so Ho paura onestamente di quello che potrebbe accadere Ok abbiamo la fornace comunque E ora che devo fare? E continuo nella caverna Ok continuiamo nella caverna Va bene Minecraft Continuiamo nella caverna Come hai detto tu Quindi continuiamo nella caverna Io c'ho una Faccio una Faccio una chest Ok Ho trovato una canna da pesca Così a caso E mi stanno guardando due pecore Una dietro l'altra Questa cosa è Collia Ehm Che devo fare? Oh Che devo fa? Ma Mi prendevi il culo? Ma non mi sto dicendo più niente raga Perché non mi dice più niente? Non lo so Vuoi che mi segga? Siediti Come siediti? Cioè spai Mi devo sedere veramente? Cioè tipo mi Cioè tipo per terra? Ok Lo sto per fargli vedere Magari Funziona Lo vedo da lontano tanto Vediamo Vediamo se accade effettivamente Se sei mi seguo continua Cosa? C'è scritto? Vai a coppire due delfini Ma che Significa? Cosa? Ma poi a parte che Ha veramente funzionato Ok Ma devo fare Accoppiare due delfini Ma che cattivo video è raga? Ma che cosa significa? Dio santo Non ci sto capendo niente Va bene Ok Come li accoppio due delfini? Pesca Ok Minecraft Devo pescare Va bene Minecraft Ok Quindi peschiamo E ti avutiamo la Fish and Roar E peschiamo Sì sì Beh sto c***o intanto Ok Tu ti devi calmare Cora di merda Dai Ah sì? Ancora? Ecco bravo Dammi il culo Dai fammi prendere Sti pesci Mamma mia che c***o Ma che c***o di pesce è Questo? Raw catfish Ma che senso Oddio ci stanno due delfini Oddio devo farli accoppiare davvero Oddio devo farli accoppiare davvero Voglio morire in questo esatto momento Oddio devo farli accoppiare Veramente voglio morire in questo esatto momento Senza proprio peli sulla lingua Eeeh Va bene magari proviamo Ma che c***o Guarda guarda come saltellano Proprio I belli beati Penso che devo tipo usarne un due Tipo come si accoppiano due mob Di Minecraft normalmente Bene faccio Ok non so minimamente Che c***o di pesce sto pescando Ma va bene Eeeh Ok ora devo Devo però triggerare Ok Uno l'ho triggerato Ok 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 Li abbiamo triggerati Li abbiamo triggerati Va bene Ok Uno E due Bene Ok e mo Cosa Ma che c***o Ma che c***o sto vedendo Ok ok ragazzi 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 non mi piace per nulla Tutto quanto Bravo ottimo lavoro Grazie Minecraft Grazie mille per avermi dato L'ottimo lavoro Ma onestamente Io mi sento schifato Cioè non Non per cosa Ma va bene Andiamo avanti Che cosa dovrei fare adesso Io Eh Devo Crea una casa Va bene Eeeh Creiamo la casa Quindi mettiamoci di impegno E creiamo la nostra abitazione Dove l'ho lasciata la crafting table L'avrò lasciata via sicuro Però dovrei Madonna dovrei prendermi del cibo Altrimenti Uccidi tutte le pecore Mamma mia Minecraft È diventato un assassino Proprio Un macellaio Va bene Ok Minecraft Uccidiamo tutte le pecore Come dici tu Ma quante Non so ste pecore Minecraft Ma ce ne stanno 30 milioni In questo bioma Di pecore Quindi Cosa Va bene Non lo so Abbiamo la crafting table Tanto Ah ma raga Ma ce l'avevo sempre Per tutto il tempo Nell'inventario La crafting table Ce l'ho avuto Per tutto il tempo Nell'inventario La crafting table Va bene Sono veramente Uno stupido Baca Vabbè Andiamo avanti Oddio santo Stai seto Stai seto Stai seto Stai seto Ottimo E ho Ucciso un bel po' di pecore Ok Fai il letto Va bene Minecraft Ma io non ho fatto La quest principale Devo fare la casa Ah dopo La casa Ah ok Grazie No 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 Parlami così a minchia Tipo Prima mi dice una cosa Prima mi dice un'altra Sì sì Così già Già capisco qualcosa Già 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 con un capisco Un cazzo In questo video Pensa pure A capire pure Come Qual è l'ordine Di quello che vuoi Che io faccia Va bene Facciamo quindi Prendiamoci ragazzi Il legno Prendiamo il legno Facciamo tutto quello Che ci serve Perché D'altronde Adesso Ma ora come ora Minecraft Posso tipo farmi La lascia No Ma come no Ma come no Non so Vabbè ok Mi rompe il culo Spaccando allora Il legno Con Lascia Va bene Cioè con le mani Va bene Ok Minecraft Va bene Grazie Sì Perché evidentemente Questo è quello che vuole Fuoci la carne Minecraft senti Mi stai dando Troppi ordini Però ultimamente Ok Si è fatta la notte Tutto un tratto Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Crediamoci una casa Del cazzo ragazzi Giusto per crearla Dai Tipo in due secondi Tipo Tipo così Un buco Un buco Quanto a Minecraft Che gliene importa Facciamo così Ok Bene E ci siamo Io penso Io penso ragazzi Che una casa Del genere Veramente In pochissimi In pochissime persone Hanno pensato di crearla Penso veramente Che sia una casa Molto molto originale Non c'entrerà mai il letto Ma Almeno è qualcosa Certo raga Però veramente Poi me lo poteva da lasciare Lascia Dio santo Per Vabbè Stai attento ad aerobrine Come stai attento ad aerobrine Wow Quello non è aerobrine Se non sbaglio Eh Cioè non vorrei Oh mio dio Ok Va bello Posso indossarlo Che carino che sono Vabbè Sì mi sa che ragazzi Dovo stare attento ad aerobrine Effettivamente Ok va bene Ora che lo so Effettivamente Ma forse è meglio Forse è meglio Adesso andarci molto molto Pia Ancora sì Ok perfetto Ottimo Facciamoci il letto ragazzi La casa la stiamo praticamente Già concludendo Eh C'ho altra Ma che cazzo Ma che sono diventato Ma sto diventato normale Meno male Madonna sti scheletri Hanno rotto le palle Ok va bene Facciamoci il letto Per favore Dai sbrighiamoci Mi serve la legna Però Dio Sto spaccando la legna Con dei cazzo Ragazzi L'ho visto Raga l'avete visto pure voi Era lì Raga non sto impazzendo Vero Perché potrei sapere Cioè potrei capire Che effettivamente sto impazzendo Ma Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Ehm Bene Ehm Raga mi sto cagando addosso Onestamente Adesso che c'ho Aerobrand praticamente Che potrebbe comparire D'aumento all'altro Ma va bene È diventato Minecraft Horror Tutto un tratto Non lo so Non me lo so Veramente spiegare Ehm Ok Oh no Cosa Oddio Oddio sto coprendo Aerobrand continuamente E per scompare Mi sto pagando Perché non passa la no Scusa Oh erna Oh erna Rompi la legna Ok Minecraft Io romperò la legna Cristo Dio Mannaggia Ma non posso Non possono mettere Su Minecraft Le persone con i fucili Mamma mia Mamma mia Mamma mia Dove entrare Deve entrare Devo sbrigarmi Devo sbrigarmi Devo sbrigarmi Devo sbrigarmi Devo sbrigarmi Dai 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 Ok Ci sono Ci sono Minecraft Ho fatto tutto quello che mi hai detto Minecraft Ho fatto il letto E mi esplode Cazzo di più hanno fatto il mio letto Perché mi esplose il letto? Perché mi esplose il letto? Vabbè, mettiamo, mettiamo Ragazzi, io non ce la faccio più, ve lo giuro Mettiamo qua qualcosa del genere Così magari, ecco, perfetto, ottimo Minecraft io ho fatto tutto quello che volevi, ok? Penso che sono a posto, giusto? Muori, come muori? Che senso devo morire, scusa? Minecraft mi ha detto che devo morire Se devo morire, cioè proprio devo morire Ok Oh, oh Cristo Oh, no, 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 no Ma che cos'è? Cos'è? La festa degli so... Io non muoio, Minecraft Mamma mia, col c***o muoio, col c***o No, 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 no Va pure esplodendo quel Creeper di fianco, bene E adesso? No, no, no Respawn No, io ho cliccato respawn Ma vattene a f***o, Minecraft Mi raccomando, se volete altri video come questo Che veramente la mia sanità di commentare non ce la fa più, ragazzi Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale Guardate questi altri video E mi raccomando, ci vediamo questo venerdì alle 19.30 In live nel canale Viola Link in descrizione E se avete il premio, li potete abbonare gratuitamente Ci si becca, ciao ciao